Musica Tutto pronto per il via del quinto round stagionale qui sul circuito di Vallelunga, trofeo Super Cup e tra i volti nuovi di questo appuntamento abbiamo anche Enrico Beter al volante della sua Seat Leon Allora Enrico, qualifiche sicuramente positive per te, adesso l'obiettivo è quello di puntare il bersaglio grosso in gara Esatto, l'obiettivo è quello di confermare ciò che abbiamo fatto vedere in qualifica cioè siamo andati molto bene pur avendo trovato condizioni non ottimali se vediamo per la gara sono fiducioso Come hai trovato questo tracciato di Vallelunga? Ieri in condizioni difficili a causa di un po' di pioggia ma oggi con questo caldo sicuramente ci sarà comunque da dover cercare di gestire la vettura nel migliore dei modi Sì, di fatti abbiamo il bello di questo campionato e anche il discorso della gomma libera abbiamo un tanto quattro gomme più dure per oggi vediamo, secondo me è una scelta ideale perché caldo c'è e dovremo fare bene Un tuo giudizio su questo campionato, il trofeo Super Cup, una realtà in rapida escalation come hai trovato questa nuova serie, questa nuova avventura? Il campionato è divertente, sono molto professionali e tra l'altro anche il discorso della gomma libera secondo me è una cosa intelligentissima perché non spinge piloti con budget non al 100% a poter correre con gomme che ha a casa o gomme che ha trovato senza dover per forza comprare le otto gomme Le macchine sono belle, gli organizzatori secondo me stanno lavorando bene sono ben organizzati e bel campionato Allora grazie a Enrico Beterra, naturalmente in bocca al lupo per il tuo weekend qui a Vallelunga Grazie a voi, ciao ciao